Vigilante sarmato al posto del portiere per la sorveglianza notturna. Ormai spaccio e degrado si sono impossessati della torre Belvedere e il grande grattacielo verde davanti alla stazione di Padova. Gli ultimi residenti e lavoratori hanno deciso di dotarsi a proprie spese di guardie giurate, una scelta già fatta anche da 800 residenti della vicina piazza dei Gasperi, che pagano 8.000 euro al mese per la vigilanza privata. La situazione nella zona è difficile, racconta ai nostri microfoni uno degli ultimi professionisti rimasti in via Tommaseo. Non vuole mostrarsi ai microfoni ma ogni mattina sotto il suo ufficio, proprio davanti alla torre Belvedere, viene insultato dagli spacciatori. Ci dicono che siamo dei razzisti, pena che parliamo, se gli diciamo spostati per cortesia o non mettere la bicicletta qui sotto i portici o correre in bicicletta, questo loro subito ci rimproverano dicendo che siamo dei razzisti di m***a. Voi ci lavorate e quindi ogni giorno rischiate per venire al lavoro? Sì, è vero, noi rischiamo in continuazione. I clienti ci riguardano attentamente di venire, questo è vero, che siamo rimasti nel nostro condominio, siamo rimasti soli, solo noi professionisti, non ci sono altri professionisti qui. Paghiamo l'affitto, le tasse, teniamo viva la zona, perché devo pure pagarmi la vigilanza? Si chiede il professionista che non intende abbandonare il suo ufficio di via Tommaseo. Sono dei costi che vanno a gravare sulla professione o anche sul cittadino, che noi già siamo aggravati di tasse. Nonostante la zona difficile, lui coraggiosamente sceglie di restare, ormai nel suo palazzo è rimasto solo. Stiamo facendo un esposto adesso all'amministrazione comunale per riqualificare la zona, perché come professionisti e come avvocati legali stiamo creando un pool di persone in modo di fare questa richiesta al comune di Padova. Per questo degrado la zona si è declassata e gli immobili adesso sono svalutati al 50-60%. Grazie a tutti!